Superate le festività pasquali, l'Elf Civ riprende la propria corsa dall'autodromo del Mugello in Toscana. Fa ripuntati sulla Superbike dove l'uomo da battere è ancora Michele Pirro. L'alfiere del Barney Racing Team è nuovamente il candidato principale dopo la doppietta infilata Misano con la sua Ducati a continuare la storia del proprio impero in categoria. Dietro è battaglia con l'altra rossa di Borgo Panigale dell'ex compagno di squadra Samuele Cavalieri, doppio podio anche per lui a Misano così come Lorenzo Savadori su Aprilia. Medesimo discorso anche per la Moto3 dove Kevin Zannoni, campione in carica con la TM dell'RGR Racing Factory Team, vuole staccare i tanti inseguitori a incominciare dal diretto rivale seppur esordiente Alberto Surra del team Minimoto. Il Romagnolo si parla nuovamente in Super Sport 600 dove Lorenzo Gabellini, doppietta Misano anche per lui con la Yamaha del Goma Racing, è a punteggio pieno davanti al campione in carica Massimo Roccoli e Kevin Manfredi. Il filo conduttore è valido anche per la Premoto3 e la Super Sport 300. Nella prima brilla la gemma di Luca Lunenta della C Racing Team CS, Filippo Rovelli invece dovrà difendersi dagli assalti di Emanuele Vocino e Giacomo Mora.